Torno a casa mia e torni pure tu, sono cose che succedono, un'estate in più che mi regalerà, un autunno malinconico senza te, l'autostrada è là ma ti dividerà. Giuseppe Alcala, ma quali erano le tue vere intenzioni? Ma poi perché hai scelto lui, c'è una tresca? No ma soprattutto... Lui aveva voglia di baci, di coccole, allora ho detto prendo lui. Sei disponibile, giustamente. 5, 10, 6, 3, che cosa hai scritto sotto Armando? Ho scritto togliti dal sole, perché secondo me c'è qualcosa che non va. Ma guarda che era notte, non hai visto? Vabbè togliti dalla luna, avrò sbagliato, la stella non è la stessa cosa. Non l'ho capito, me lo spieghi il senso di questo pigiama party collettino? Chi è che mi ha dato? No, hai capito tu stesso? Ja spiega così. Perché io non sono in grado, perché non riesco a comunicare con lui.